Gioielli Soprana, a pochi passi dal centro storico di Verona, in via Carducci 11, accanto alla chiesa di San Tommaso, interpreta e crea preziosi in cui l'antico significato del loro giallo e bianco si fonde con un design moderno, evocando così una nuova sensazione emotiva. Dal 1974 i gioielli nascono dall'abilità dell'orafo Cesare Soprana, affiancato dal 2000 dal figlio Matteo. Nel laboratorio artigianale realizzano i desideri dei loro clienti, partendo dal disegno fino alla scelta dei materiali, che rendono ogni creazione unica e personale. Il gioiello è irripetibile, gusto e personalità si discostano volutamente dai dettami delle griffe, diventando così segno distintivo di un fascino individuale ed esclusivo. Lo stile soprano è raffinato, vi propone gioielli in oro bianco, giallo o rosa, con pittre preziose e ricercate, come diamanti, quarzo citrino e madera, crisoprasio, rodocrosite e tanzanite, perle di mare e tahiti, come quelli indossati dalle stupende finaliste di Miss Lessigna, che valorizzano la bellezza grazie alla ricerca estetica, la manualità e dalla forte passione per l'arte orafa. Materie prime scelte con attenzione, cura dei dettagli, esperienza per un regalo che suscita emozioni che durano tutta la vita, come i pendenti, gli anelli di fidanzamento, gli orecchini e i bracciali, che accompagnano i vostri momenti speciali. Celebri sono le interpretazioni degli angoli di Verona, realizzate in argento, che vengono racchiuse in quadri per arredare con estrema eleganza, oppure su plexiclass per dare un tocco di modernità, doni perfetti per l'anniversario di matrimonio, le nascite e gli avvenimenti importanti. Tanti riconoscimenti prestigiosi che in 40 anni di attività sono stati realizzati da gioielli soprana, per personaggi illustri dello sport, dello spettacolo e della cultura. Gioielli Soprana, lusso, artigianalità ed esclusività nel cuore di Verona. Per maggiori informazioni e per gli orari del negozio potete visitare il sito www.gioiellisoprana.it e la pagina Facebook Gioielli Soprana.